Dove vai, Mirna? Sam, ho un appuntamento col parrucchiere. Che voleva, Trey? È furioso perché ho fatto andare via Kelly. Sei andata ieri dal parrucchiere. Sul serio? Ti sei liberato di Kelly? E come ci sei riuscito? No, non importa. Voglio sapere dove vai. E devi dirmi la verità stavolta. Te l'ho detto. Lasciami andare. Mirna, io ti conosco. Tu mi ne vedi. Tu mi nascondi qualcosa. Hai cominciato a agitarti come un gatto appena ti ho detto della trappola che abbiamo combinato per mettere le briglie a tre. Senti, ti prego, lasciami andare. Sei arrivata al punto di suggerire di far sparire Sloan per poter mettere a tacere la faccenda che mi riguardava. Era tanto per dire. Ah sì? E ora che hai fatto? Va bene, te lo dico, non tormentarmi. Sam, ho fatto quello che avresti fatto anche tu nelle stesse circostanze. Insomma, che cosa hai fatto? Ho incaricato una persona di convincere Sloan a ridarci le prove che ha. Ecco, tutto qui. Hai incaricato una persona? E chi sarebbe? Uno dell'agenzia indagini confidenziali. Indagini confidenziali? Ma sei impazzita? Hai forse intenzione di far uccidere tua nuora? Sam, il signor Ellie mi ha assicurato che avrebbe persuaso Sloan a restituirci le prove. Ellie è un investigatore privato, ma anche un pericoloso picchiatore. Ed è così subdolo che nessuno è mai riuscito ad accusarlo di niente. Un picchiatore? E come pensavi che sarebbe riuscito a persuadere Sloan? Avacca via, arriveremo prima. Speriamo che non sia troppo tardi. Ma come diavolo ti è saltato in testa un'idea simile? Che questa volta l'hai fatta proprio grossa. Sì, ti prego, sono già abbastanza nervosa. Non c'è bisogno che mi urli nell'orecchio. Ma come ti è venuto in mente di assoldare quei delinquenti? Quella è gente pronta a tutto. Che cosa pensavi di ottenere mandandoli da Sloan? Tutto questo non sarebbe successo se fin dal principio tu mi avessi detto la verità. Ma come potevo immaginare che tutta questa storia fosse solo una commedia? È colpa tua questa volta, non mia. Risparmia il fiato e prega piuttosto che arriviamo da Sloan prima...